Buon pomeriggio, dunque altri 5 casi di contagio nelle ultime ore e sempre nelle aree del Padovano. Il numero è dunque di 41 tra ricoverati negli ospedali e in isolamento domiciliare e più una vittima, in totale 42. Ma la situazione cambia di ora in ora e colleghiamoci dunque con il nostro Dario Giordo che si trova a Venezia per un aggiornamento della situazione. Buongiorno Luca, buongiorno ai telespettatori. Sono dunque in aumento i casi di contagio da coronavirus in tutta la regione. Abbiamo detto che il totale ha toccato quota 42, questo è l'ultimo dato aggiornato. Sono tre i cluster, cioè gli aggregati di contagiati principali in Veneto. Il più grosso resta quello di Voo, il comune sui Colleugani, provincia di Padova, in cui sono stati registrati 28 casi di contagio. 13 le persone ricoverate in ospedale a Padova, 14 le persone che sono tenute sotto osservazione. Nel conteggio rientra anche la prima vittima italiana, Adriano Trevisan, e c'è stato anche un caso di dimissioni dall'ospedale. Altro cluster consistente è quello dell'ospedale di Mirano, in tutto 8 le persone colpite, 4 per quanto riguarda l'ospedale di Mirano. Per l'esattezza uno ricoverato nell'ospedale di Padova, 3 invece operatori sanitari che sono tenuti sotto osservazione. Ci sono altri 4 casi in questo cluster, però ancora non è chiaro se siamo stati ricoverati in ospedale. Da tenere sotto osservazione anche il cluster di Venezia Centro Storico, 4 le persone coinvolte, 3 anziani ricoverati all'ospedale civile, ma erano lì già per patologie pregresse e una persona tenuta sotto osservazione nella sua abitazione. Da registrare inoltre due casi fuori dai cluster di cui abbiamo parlato. Uno a Limena, in provincia di Padova, una persona ricoverata proprio nell'ospedale della città del Santo, e un'altra persona nella terraferma veneziana, un'ottantenne di mestre, ricoverato all'ospedale dell'Angelo. Per il momento è tutto, a voi la linea.